I familiari e i contatti stretti dell'operaio residente a Moschiano saranno sottoposti ai tamponi e quanto concordato dal sindaco con l'asla di Avellino, appena saputa della positività al Covid-19 dell'uomo dipendente di un'azienda del Nolano. Rosario Addeo ieri sera intanto ha informato la comunità di Moschiano dell'accertamento di un altro caso di Covid, chiedendo ai propri concittadini di rispettare in maniera rigorosa tutte le dovute precauzioni sicuro della loro collaborazione. Intanto stamane l'azienda sanitaria locale di Avellino ha comunicato che l'uomo è risultato positivo al coronavirus a seguito del tampone effettuato al presidio ospedaliero di Nola. Si tratta di un soggetto asintomatico già in isolamento in quanto contatto di un caso positivo proveniente dalla provincia di Napoli. Inoltre l'asla di Avellino come prassi ha predisposto l'indagine epidemiologica e l'effettuazione di 30 tamponi ai familiari e contatti stretti del caso. Il sindaco Rosario Addeo ha fatto richiesta di effettuare complessivamente circa 80 tamponi per coloro che sono venuti a contatto con l'uomo anche a seguito di una festa dove erano presenti una trentina di persone. Il primo cittadino ovviamente sottolinea che resta alta l'attenzione. L'attuale situazione tiene tutti con il fiato sospeso. Il caso di positività moschiano va ad aggiungersi ai due precedenti contagi. Da inizio luglio ad oggi nella provincia di Avellino sono 28 i casi, 7 dei quali già sono guariti. L'ultimo tampone positivo in Irpini al covid-19 risale a domenica scorsa quando ad essere risultata positiva è stata una donna di ritorno dall'Abbania, suo paese d'origine. Per quanto riguarda invece la Campania, il bollettino dell'unità di crisi regionale ha restituito 19 positivi dai 1.689 tamponi processati. Il totale dei contagiati in Campania da inizio dell'emergenza coronavirus ad oggi è di 4.974, mentre il totale dei tamponi processati è di 327.787. Ieri ci sono state quattro guarigioni che porta a 4.132 il totale dei guariti.